A Ginevra, gli Stati Uniti avrebbero convinto la Russia ad accordare dei salvacondotti agli ultimi combattenti jihadisti presenti ad Aleppo Est. Almeno questo dicono gli stessi jihadisti. Smentiti però immediatamente da Mosca, il Cremlino nega qualunque firma di qualunque accordo di questo tipo. Attualmente meno di un decimo del territorio sarebbe ancora nelle mani dei fondamentalisti armati. La seconda città della Siria sta per cadere, regalando al presidente Bashar al-Assad la più grande vittoria in quasi sei anni di guerra civile. C'è chi teme comunque che molti militanti di Al Nostra e degli altri gruppi islamici antiregime possano già aver abbandonato le armi per potersi salvare, nascondendosi fra la folla dei profughi civili in fuga.